Il bilancio 2016 di Coingas si è chiuso con un utile di 2 milioni e 800 mila Euro. Grande soddisfazione da parte del Presidente Sergio Staderini. Sì, devo dire che siamo molto contenti perché il bilancio 2016 si è chiuso con un utile netto di oltre 2 milioni e 800 mila Euro, con un 9% in più rispetto agli anni passati. Adesso è arrivato il momento, come sapete, di una fase importante in cui lo scopo principale sarà rianimare Coingas. Sono già stati costituiti dei gruppi di lavoro tra i sindaci, dove ovviamente siamo consapevoli delle difficoltà e problematiche che andiamo a incontrare, ma siamo altrettanto convinti che le nuove strade vadano intraprese e percorsi. Stiamo, come dire, posizionando un po' il nostro peso su quello che è ovviamente la società estera. E altrettanto sono in atto ancora i patti parasociali che sono stati discussi già in qualche incontro con gli altri due soci, ovviamente Intesa e Prato, e dovremmo entro breve concludere tutta l'operazione. Io mi auguro che sia un futuro molto, molto, molto soddisfacente per il nostro territorio perché questo porterà ovviamente un maggiore valore ai sindaci e quindi ai sindaci, di conseguenza ai cittadini, per ovviamente organizzare al meglio l'erogazione dei servizi pubblici locali.